Tornano i giocatori al campionato ma non il pubblico. Cornice surreale causa coronavirus stasera al Palaeor di Roma per il round 24 della Serie A di basket. In campo Dinamo e Virtus, entrambe motivati a invertire il trend negativo degli ultimi mesi. Capitolini a secco di vittorie da ben otto giornate. Sassaresi sconfitti quattro volte su cinque tra Coppa e Regular Season. Roster terremotati da arrivi e partenze. In casa bianco-blu, l'exit strategy di McLean e Gerrers sostituiti da Colby e Redivivo Jamie Smith. Rivoluzione tra le file della lupa cestistica. In fuga precauzionale dagli Zeyang Lions cinesi, ecco Corey Webster, Playguardia classe 1988 e top scorer ai mondiali con la Nuova Zelanda. Jalen Berford invece diserta dall'ormai retrocess VL Pesero col bagaglio di 16 punti di media. Pozzecco il suono alla carica, i suoi paiono smarriti, in ritardo alla prima palla a due nelle volate. Il coach punta il dito sulla difesa, in deficit frequente, soprattutto nel primo tempo di Champions con il San Paolo Burgos. Retroguardia da riregistrare quindi per il Poz che predica marcatura stretta e ranghi compatti. Da più parti ci si chiede però come conciliare le esigenze agonistiche delle tante competizioni, professionali e non, fatte di sudore e contatto fisico con il decreto governativo che stabilisce un metro di distanza tra le persone. Mentre tutto sembra fermarsi, lo sport va pericolosamente avanti.